Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo trailer del terzo episodio di Brave Frontier giapponese Fit Lex 09 In questo episodio abbiamo 50 gem e faremo qualche evocazione E come vedete dal titolo prenderemo alcuni doppioni, ma non vi spoilerò più nulla Un'altra cosa, tra poco penso di aprire anche io un Brave Frontier giapponese I video saranno caricati sul mio canale e saranno in collaborazione con Lex 09 E per ora, essendo Lex ancora a livello 6, deve andare avanti nella storia E quindi fare più livelli, accumulare anche gemme dalle missioni E niente, questo era semplicemente un piccolissimo trailer Ci vediamo con il video del premiums che non sto caricando perché ancora non ho preso la leg1 gem Che è abbastanza difficile da prendere E pensavo di essere andato con un team giusto Ma sono andato con un team delle missioni, quello con due LSGX E quindi ho fallito miseramente al Terminus E ho sfiorato i 950.000 punti Mi manca pochissimo davvero per il milione per la leg1 gem Non appena la prendo, metterò questa piccola parte di registrazione In cui mostrerò la leg1 gemme Vabbè, semplicemente non sperare che ho avuto tutte le caratteristiche Tutte le statistiche del 25% ed è molto buona Ragazzi, ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti